un passato di verdura lì proprio no. Cos'è un betta che sta... un drone. Un drone stavo dicendo troppo. Un drone che c'è un po' dentro della pianta. Mangiala e non lo mangi. Dai fa un boccone. No no bagiala tu. Mi trovo data perché sapevo che tu lo mangiavi. Fa un boccone. Dai Marco su. Dai Marco. Dai Ciri che tu sei già all'altezza giusta. Mettite la nel culo che ho detto come la supporta. Dammi un coltello che la taglio via. Porca tratta.